Colacci, per arrivato 2-0 è quasi 3-0, però vi siete riusciti a risollevare e a vincere al tie-break? Sì, noi durante tutta la stagione abbiamo dimostrato un grandissimo carattere, tante volte siamo stati sotto e abbiamo recuperato. Oggi in casa non poteva finire 3-0, noi non potevamo mollare la partita così. Ci abbiamo creduto, siamo cresciuti nel nostro gioco, perché nel primo giugno 7 abbiamo giocato veramente male, anche se loro hanno fatto tutto in maniera perfetta. Ci siamo cresciuti, abbiamo preso fiducia, il pubblico ci ha aiutato tanto e siamo strafelici. Adesso mercoledì si riguarda 2? Sì, si gioca già mercoledì, un'altra battaglia anche in Modena, anzi sarà ancora più dura. Avremo un paio di giorni per recuperare, per allenarci, per preparare al meglio la partita. Vedremo preparare bene la partita, insomma va bene, sarà durissima, sarà una serie lunghissima, perché le squadre sono allo stesso livello. La finale verrà decisa dai dettagli, come non mai. La finale verrà decisa dai dettagli, come non mai.